Oggi siamo con Loredana di Viceversa Società Cooperativa, ci spieghi qual è il tuo lavoro? Viceversa è una società cooperativa sociale ed è nata con il focus di trasformare e portare il know-how della carta artigianale fatta a mano di Fabriano nel mondo, in Italia, in Europa e nel mondo. Viceversa, dicevo, trasforma la carta fatta a mano dei piccoli artigiani di Fabriano facendo la trasforma in album, sketchbook, libretti, agende. Altra cosa importantissima è quella di creare una rete con tutti gli artigiani che nella loro bottega, nel loro garage producono questa carta favolosa, di metterli insieme per farli conoscere, perché la carta artigianale non è come quella industriale e Fabriano ha una tradizione, Fabriano produce carta da più di 800 anni. Quindi è un'eccellenza locale nostra del territorio che va valorizzata e quindi noi abbiamo questa ambizione. Quindi rete e tradizione. Ma voi con chi collaborate? Dicevo, con gli artigiani fabrianesi, li stiamo raggruppando piano piano. Attualmente faccio qualche nome, Luigi Lecella è un mastro cartaglio, Roberta Gagliardini che lavora resina carta e anche artista, Melania Tozzi con la canapa, noi che la trasformiamo e abbiamo altri artigiani che non fanno solo carta ma rilegano e lavorano il cuoio, Emiliano si chiama, spero adesso mi sta molto bene, spero che però entri. Quindi di creare una filiera che vada alla carta e tutti i suoi derivati. Quindi a questi giovani, a chiunque volesse appunto intraprendere questo lavoro di cartaio, avete dei consigli da dare o degli aiuti, dei pensieri? Sì, innanzitutto passione, determinazione, è un lavoro manuale sì, ma che ha bisogno di molta conoscenza e quindi di istruzione, serve di studiare anche, ma anche pratica, quindi non solo libro e pratica. Se avete vicino casa o veniteci a trovare a Fabriano, apriamo le porte delle nostre cartiere artigianali, vi spieghiamo, vi facciamo vedere e speriamo di trovare qualcuno che abbia voglia di fare questo mestiere. Prima però mi ha detto una cosa molto bella, che il cartaio deve essere un chimico. Anche sì, deve avere una profonda conoscenza delle materie prime, quindi della chimica, delle materie prime, perché mettere insieme cotone, acqua ossigenata, acqua, quantità, non è così semplice. Per un foglio di carta che duri nel tempo, resistente e di buona marifattura, serve un grande know-how, quindi di studiare ragazzi, perché è importante, altrimenti il prodotto è scadente. Prima però ci hai anche spiegato come si fa la carta, ce lo puoi ripetere che è troppo bello? Sì, allora la carta artigianale si prende il cotone, noi usiamo cotone 100% esiziano, che viene messo a bagno in un tino con l'acqua, quindi a macerare, si crea un impasto e c'è una macchina, un olandese si chiama così, la macchina, che impasta, fa girare questo impasto, lo macimalo, lo amalgamalo e poi va a finire in un altro tino, arriva il mastro cartaio che con il suo telaio immerge il telaio nell'impasto, lo solleva, l'acqua scuola, c'è una schiena d'asino fatta, le schiene d'asino tradizionali sono di legno, levigato, con dei felcri, dei felcri, viene poggiato ciò che è stato tirato su, quindi la cellulosa, l'impasto, su questo velcro, questo è il movimento da fare, la cellulosa si stacca, rimane attaccata sul velcro, viene posato sopra un altro velcro, messo sotto una pressa, quindi tutti pressati, la pila, si fa una pila, vengono tutti pressati per fascolare l'acqua, rimanente e poi il foglio viene staccato dal velcro e viene messo ad asciugare i stenditori di legno, come si faceva nel medioevo. Ma la carta che utilizzate può anche essere definita biologica? Assolutamente sì, non ci sono additivi chimici, non ci sono, 100% cotone egiziano, la sbiancatura, perché altrimenti la carta sarebbe non bianca, candida, ma un pochino avorio, tendente all'avorio, dipende poi dalla materia prima che si usa. La sbiancatura si fa con l'acqua ossigenata, la collatura interna, questo lo sa il nostro cartaglio, perché sono anche gelosi, giustamente, ognuno ha la loro tecnica. Noi usiamo una collatura interna che sono colle speciali che si usano per forstare insieme e per rendere la carta più o meno impermeabile. La carta questa che vendiamo noi di viceversa ha una collatura interna, quindi non è superficiale. Significa cosa? Che la carta non ha facciate, non ha dritto e rovescio, si comporta nella stessa maniera sia avanti che dietro. L'artista o chiunque sia può dipingere da ambo le facce nella stessa maniera. Noi usiamo una collatura che va dal 3,5 al 4%, cioè Luigi, perché così permette all'artista, nel caso specifico, siamo a Monza in Acquarello, gli acquarellisti che usano acqua, di rendere la carta, di permettere loro anche di correggere un errore. La gommatura protegge anche la carta e oggi ci è stato detto che sono stati fatti 16 passaggi con acqua e colore e la carta non ha perso la sua consistenza, è importantissimo. Da qui la chimica. Per fare questo bisogna avere una grandissima conoscenza delle materie prime e di come metterle insieme, è importante. Loredana, ci puoi far vedere qualche prodotto di tutte queste belle carte di cui ci hai parlato? Assolutamente sì, è con orgoglio. Ecco, che meraviglia. Questo è un nostro album, cover a rilievo, lo chiamiamo così, perché questo che vedete è il centro storico di Fabriano ed è a rilievo, quindi se uno passa la mano, bravo, e all'interno viene montata la nostra carta. È un libro. Bellissimo. Acquarellabile, formato libro. Abbiamo diversi formati, diversi temi, questo è il ratto delle Sabine. Bello, anche questo è il formato più piccolo con la scritta Fabriano, la linea bio. Brava, anche quello, interessante. Erba medica, crusca, paglia, le cover, e tutti interamente fatti a mano. Ma vedo dei gialli diversi, dei verdi diversi, perché? Sì, perché durante la produzione, se questo è stato fatto con una produzione dintino, nel quale viene messo il colore nell'impasto, è molto probabile che la produzione successiva con l'altro impasto non sia perfettamente identica. Non troverete mai un album o un libro perfettamente identico all'altro, perché ogni cosa è fatta a mano. E quindi sono dei pigmenti naturali? Sì, assolutamente, è tutto naturale. Quindi si ribadisce anche questo concetto da fare l'importanza dell'elemento naturale, ma anche alla unicità, questo l'abbiamo capito. Eh sì. Ci potete dire dove vi possiamo trovare? In internet, sui social, oltre che a Fabriano? Oltre che a Fabriano e le mac, siamo su Facebook, abbiamo la nostra pagina Viceversa Fabriano, Instagram, chiocciolina Viceversa Fabriano, tutto attaccato, e il sito web, che è anche un e-commerce, www.peperitaly.shop. Basta digitare e vi compare noi, la Viceversa, e lì troverete Luisi Mecella, le sue carte, Melania Tozzi con la carta canapa e anche la sezione arte, perché sono anche artisti, Roberta Gagliarvini, la Casa Madonna della Rosa Onlus, sono i nostri partner attualmente, e come dicevo prima, mi stiamo aggregando piano piano, e per ritornare alla Casa Madonna della Rosa Onlus, è una Onlus appunto, che come noi, anche noi abbiamo dei disabili che ci aiutano a costruire i libretti, e la Casa Madonna della Rosa, ha dei disabili mentali, che fanno carta, hanno una loro cartiera nella loro struttura e fanno lavori come carta da lettere, porta foto, bomboniere, e le fanno loro, quindi noi diamo voce a tutti, con il sito e-commerce speriamo di arrivare in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Bene, è stato un piacere Loredana, a questo punto possiamo andare a provarla a Fabriano, o magari mettere nel cassetto, e mettiamo nel cassetto il fatto di diventare anche noi i piccoli cartai. Sì, fatela una prova a casa, veramente, anche con degli stracci di cotone, anche con il jeans, lasciateli macerare, dentro l'acqua, compratevi un telaglietto, qualcosa, e poi fatelo asciugare sopra dei velcri, va bene, il velcro si trova anche in merceria, fate il vostro foglio, va bene anche la carta normale, solo che non ha la stessa riuscita, perché dentro ci sono addivivi chimici, quindi se prendete cotone vero, lino, denim, quindi jeans, fate una prova ragazzi, e farete il vostro foglio di carta già da soli a casa, vero? Che bello, ti provo io! Anche quando uno è bambino, no? Sì, quello più... Esatto, è come la carta pesta, no? Con la colla, noi usavamo il vinavil, qui non lo fate, fate proprio il vostro foglietto, non avrà la resistenza, però è il vostro foglio, e avete capito più o meno com'è in linea di massima il processo di produzione di un foglio di carta. Per quanto tempo bisogna lasciare macerare? Bravo! Eh, tanto! In termini di giorni? Giorno? Sì! Mesi? No! No! Uno, un giorno, il giorno dopo, vedrete che diventa polpiglia, la lavorate, la prendete con un telaio, con qualcosa, mi viene in mente il passino, no? La tela del passino, scolate l'acqua, la pressate, la mettete su un velcro, la fate asciugare all'aria, ci vuole, anche per giorni, e avrete fatto il vostro foglio di carta. È simpatico, è simpatico a questo punto, sì! Non scherzo, eh? Va bene, va bene, ci tempiamo! Fabriano ha iniziato così, eh? Nel 1200, non con il cotone vero, ma con gli stracci, ma con gli stracci. C'erano proprio le donne che selezionavano gli stracci, questo è medioevole, e le mettevano a macerare, i colori erano fatti con pigmenti che arrivavano, quindi naturali, quello che usciva, usciva, perché il cotone rimane, il colore viene dato dal cotone, rimane leggermente avorio, con lino, uguale, per farvi capire, una cova di lino, è questa qui, questa è fatta con lino, messo a macerare, testato, nel medioevo si faceva così, macerato, testato, e poi io l'hanno di questi macchinari che macinavano, e poi lo faccio la stessa. Vi consiglio di farla a casa, per curiosità. Ok. Proveremo. Grazie. A voi. Grazie. Grazie.